ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale sono mese giulia questo video in collaborazione con il sito bid park andremo a realizzare gli orecchini a perno e li ho chiamati appunto hop micetto hop ed eccoli qui è la testolina di un piccolo gattino ed eccoli qua sempre se il telefono mette a fuoco ed eccoli qua li trovo davvero graziosissimi questo è il retro il perno davvero molto carini ho creato anche altre due versioni di questo orecchino dopo ve li mostro prima voglio elencarvi tutti i materiali per andare a realizzare questo progettino davvero semplice in primis vado ad utilizzare i rivoli da 8 mm scelti appunto dal sito di bid park sono dei rivoli da 8 della swarovski in colorazione golden shadow questo è il codice e ovviamente giù nell'infobox vi linko tutti i prodotti utilizzati oltre a questo vado ad utilizzare le delica della mioki queste sono le db 0 115 e sono le dark topax gold luster ed è davvero uno spettacolo di colore infatti ve lo straconsiglio davvero bellissimo attimino che metto ok zoom eccolo qua poi come perline oltre a queste delica della mioki vado ad utilizzare le rocaille le rocaille sempre della mioki le vado ad utilizzare nella medesima colorazione sono le 42 0 3 della mioki e vado ad utilizzare sia le 15 e sia le 11 della medesima colorazione queste qui sono appunto le duracat galvanized yellow gold ve lo non so se si legge ma vi posso assicurare che c'è scritto duracat galvanized yellow gold e sono appunto come dicevo prima le 42 0 3 della mioki oltre a queste due vado ad utilizzare anche un'altra colorazione di rocaille 15 0 della mioki e sono queste qui sono le 04 57 e sono le metallic dark bronze di queste qui ve ne occorrono esattamente due di numero per gattino perché sono appunto le perline che vanno qui vedete vicino al bicono svaroschi ovviamente per gattino andrete ad utilizzare anche i bicono svaroschi io l'ho scelti in questa bellissima colorazione indicolite da 4 mm o vanno bene anche da 3 perché appunto andremo a realizzare il papillon del gattino poi centrale come vedete qui ho utilizzato una rocaille 8 0 della toko infatti per gattino vi occorrerà una sola rocaille 8 0 e poi fondamentale per realizzare ovviamente un orecchino a perno sono questi perni a coppetta questi perni sono adatti sia per un rivoli da 8 come nel nostro caso o anche per degli chaton da 8 o anche per le perle da 8 ma volendo può essere anche adattato questo schema per un rivoli da 10 o anche un rivoli da 12 mm potete tranquillamente adattare questo schermino e realizzare dei piccoli o dei grandi gattini infatti come vi dicevo prima di questo gattino qui ho realizzato anche altre due versioni la prima la seconda versione che vi mostro è questa qui ed eccola qua questa è la versione ciondolo del gattino hoop in questo caso non ho inserito il interno a coppetta ma ho inserito appunto un gancio in acciaio qui in alto per poter inserire la catenina e poi ho l'unica modifica che ho effettuato ho realizzato anche la codina che sinceramente non mi convince appieno perché vorrei farla un pochettino diversa devo fare qualche piccola modifica quindi al momento in stand by questa è la seconda versione e poi ho creato anche una terza questione perché sul sito di bid park oltre a aver preso questi rivoli da 8 preso anche i rivoli da 18 in questa bellissima confezione da 18 pezzi e infatti ne manca una e ho realizzato il faccione del micione hoop ecco qui la versione più grande ve li mostro ovviamente vicino infatti vedrete che uno è piccino piccino e grazioso e l'altro invece è un po più grande con un rivoli da 18 qui per quanto riguarda le orecchiette utilizzato l'esamo sparpuca e per la parte del fiocchetto ho utilizzato le paro sparpuca la coda è un pochettino diversa rispetto a quest'altra versione qui infatti questa resta un po più diritta questa va sembra un pochettino l'effetto spezzata volevo creare una un'onda perciò non mi convince quindi al momento vi illustro questa versione qui e poi voi ditemi quale versione preferite dei tre gattini hop vi lascio al tutorial sul filo inserite esattamente 22 delica 11 0 il filo sto utilizzando questo qui che un filo monofilamento da 0,16 mm chiudete appunto la lavorazione a cerchio ripassando in tutte le perline andando ovviamente in direzione apposta e poi effettuate tre nodini rieccomi questo risultato ha chiuso la lavorazione a cerchio effettuato i tre nodini ed unito anche il filo con un altro piccolo nodino adesso andremo a realizzare una semplice incastonatura al peyote circolare quindi il mio filo fuoriesce appunto da queste due perline inserite una delica sul vostro ago saltate la perlina che viene subito dopo cioè questa e rientrate appunto nella seconda delica in questo modo adesso di nuovo una delica sul mio ago salto di nuovo una delica e rivado nella delica che viene subito dopo è davvero semplicissimo incastonare al peyote quindi andrò velocemente visto che questi passaggi ve li mostro sempre in ogni video ho inserito esattamente 11 delica sul mio lavoro l'ultima delica che ho inserito appunto sul lavoro è questa qui eccola qua sono ripassato ovviamente nell'ultima delica e poi nella prima delica inserita di questo giro adesso in questi spazzetti equivocanti vado ad inserire una locale 15 0 e andrò a realizzare esattamente due giri di locale 15 0 per poter chiudere l'incastonatura davanti questo è il risultato vedete ho realizzato appunto dei giri di locale 15 0 qui in in alto adesso rigiro la incastonatura in questo modo sono già di passata all'interno di queste perline per fuoriuscire dalla delica quella sporgente ed ecco qua dove dove fuoriusci appunto il mio filo e adesso vado ad inserire all'interno sia il vivori in questo modo con la testa all in giù ecco qui e vado ad inserire anche la coppetta non serve colla perché adesso andremo esattamente a realizzare tre giri di locale 15 0 in modo da inglobare e bloccare la coppetta all'interno e ecco mi ha terminato appunto l'incastonatura questo è davanti e questo è il retro della lavorazione ovviamente poi sono di passata nelle ultime per linee l'ultimo giro delle 15 0 solo collago con il filo per andare a chiudere e stringere bene vi posso assicurare che la coppetta è bella ferma e stabile all'interno del dell'incastonatura e questo è il risultato a questo punto sono fuoriuscita da una dedica questa qui centrale perché c'è appunto ve lo indico con lago questo è il primo questo è il secondo che è quella appunto centrale da dove fuoriesce il mio ago il mio filo e questo è il terzo giro delle dedica quindi fuoriesco dal dal giro quello centrale questo qui inserite esattamente 9 dedica sul vostro ago ed eccole qua le 9 dedica e adesso io mi ritrovo fuoriuscire appunto da questa perlina qui centrale ne salto un'altra centrale cioè questa e mi infilo esattamente nella terza sempre perlina centrale la delica quindi la terza ed ecco qua che si forma la prima orecchietta adesso ripasso nella delica del primo giro questa ripasso nella delica centrale nuovamente inserite 9 delica sul vostro ago rieccomi perdonate l'interruzione ma ho preferito eliminare il telefono perché non metteva a fuoco nulla e ho preso appunto la telecamera infatti qui si vede tutto bello nitido ecco qua questo è il reto del lavoro non so se prima si è visto qualcosa comunque fuoriesco da quella centrale la delica appunto centrale ho inserito le nuove delica ho saltato la seconda centrale e mi sono rinfilata nella terza centrale poi sono ripassata ovviamente nel primo giro come vi dicevo in questa delica qui e sono risbucata appunto in questa delica centrale nuovamente 9 delica sul mio ago e risalto ovviamente la delica centrale cioè questa e mi rinfilo sempre nella terza quindi questa è la prima la seconda e mi rinfilo nella terza delica centrale per realizzare appunto anche la seconda orecchietta a questo punto io mi ritrovo in questa delica qui risalgo in questa delica del primo giro in questo modo e ripasso anche nella rocaille 15.0 questa mi ritrovo a fuoriescire esattamente da questa rocaille inserite tre rocaille 15.0 le portate alla fine del filo ed eccole qua rientrate soltanto nelle ultime due cioè lasciate questa e rientrate solo nelle ultime due e rientrate di nuovo nella rocaille di partenza il filo fuoriesce da questo lato e rientro ovviamente dall'altro lato in questo modo per creare appunto il primo baffetto del micetto ed eccolo qua il primo vado a creare anche il secondo quindi di nuovo tre rocaille ed eccole qua le porto sempre alla fine del filo rientro solamente in queste ultime due e poi ripasso con l'ago sempre in questa rocaille ma questa volta nella medesima direzione da dove fuoriesce il filo quindi vado dal 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 basso verso l'alto e tiro il filo e ho creato appunto anche il secondo eccolo qua il secondo baffetto eccolo qui adesso ripasso di nuovo in questa delica questa delica accanto alla rocaille 15.0 ripasso nella delica centrale questa adesso risalgo in quattro delica di questo archetto salto questa qui che poi è la quinta questa qua la salto e mi rinfilo direttamente nelle altre quattro delica dell'altro lato in questo modo in modo che questa delica crea questa sporgenza ripasso nella delica questa centrale e vado a realizzare questi due passaggi sia del baffetti e sia questo passaggio qui anche dall'altra parte quindi ripasso anche in questa delica qui del primo giro ripasso nella delica questa qui centrale ripasso in quattro delica dell'altro orecchio eccolo qua salto questa centrale e ripasso nelle altre quattro dell'altro lato dell'archetto ok ripasso nella delica questa centrale ripasso nella delica del primo giro e ripasso nella rocaille 15.0 e a questo punto vado a realizzare i baffetti e questo è il risultato mi ritrovo a fuorescire da questa rocaille 15.0 rivado in questa delica qui del primo giro eccola qua in questa delica qui ripasso nella delica centrale ripasso nella delica del primo giro e ripasso nella delica centrale quella che abbiamo saltato prima adesso inserite una rocaille 11.0 della Miyuki ed eccola qua e rientrate sempre nella delica questa qui centrale andando in direzione opposta in questo modo così la rocaille si posiziona nel centrale dell'orecchietta poi ripasso nella delica qui nel primo giro nella rocaille 15.0 nella delica del primo giro fate attenzione al filo ok di nuovo in questa 15.0 e poi ripassate in queste due delica una del primo giro e l'altra quella centrale in queste due di nuovo una rocaille 11.0 e rientrate sempre nella delica questa centrale andando in direzione opposta ed ecco qua che ho realizzato appunto anche l'altra orecchietta ovviamente adesso ripasso in queste perline quindi ripasso in questa delica ripasso in questa delica qui centrale in queste due vedete in queste due delica ok giro il lavoro in questo modo vedete mi ritrovo a fuorescire da questa delica qui adesso vado nella delica questa centrale ripasso in questa delica qui del primo giro vedete e adesso del primo giro esattamente da baffo a baffo abbiamo esattamente quattro delica questa è la prima la seconda la terza e la quarta da dove fuoriesce il mio filo io rivado nella 15.0 accanto e risbuco dalla terza delica questa qui appunto delle quattro vedete questa è la prima la seconda la terza e la quarta io li sbuco dalla terza inserite una rocaille 80 della togo e rientrate nella seconda delica in questo modo ok si è posizionata appunto in questo modo adesso mi ritrovo appunto in questa perlina qui rivado in questa delica qui centrale rivado in questa delica qui del primo giro riscendo nella delica del terzo giro questa in questo modo ripasso in quella centrale ripasso in questa delica qui e ripasso nell'auto 0 adesso vado a realizzare il fiocchetto quindi un bicono da 4 mm indicolite e una rocaille 15.0 del colore quello metallic bronze le porto alla fine del filo rientro solo nel bicono e nell'auto 0 in questo modo di nuovo bicono e rocaille 15.0 le porto sempre alla fine del filo e rientro nel bicono nell'auto 0 e nel bicono rientro appunto in queste perline ripeto questi passaggi quindi ripasso anche nella 15 ripasso nel bicono da 4 nella 8 e nel bicono ripasso nella 15 e ripasso di nuovo nel bicono nella rocaille da 8 e nel bicono in questo modo in modo da stringere per bene queste tre perline insieme a questo punto ripassate solo nel bicono e nell'auto 0 centrale e ripassate nella delica eccola qui nella delica questa sotto non so se si nota provo a girare la lavorazione eccola qua in questa delica qui accanto alla 8.0 quindi ripasso in questa delica ok quindi il filo fuoriesce appunto dalla delica e poi ripasso nella delica centrale in questa delica dell'ultimo giro in modo da ripassare con il lago e con il filo all'interno del lavoro e bloccare il filo in eccesso ed ecco qui gli orecchini hop terminati ed ecco li qua io li trovo davvero molto molto graziosi vi dimostro anche la versione ciondolo ed eccola qua con la codina però sicuramente andrò a modificare la versione ciondolo e andrò a realizzare cioè andrò a togliere la codina per fare proprio la parure identica e poi qui ovviamente c'è la versione gigante spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao a tutte